Il giorno di San Valentino coincide con la giornata mondiale del profilattico, una ricorrenza che apre una riflessione sul metodo contraccettivo più efficace nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sono forti però le disparità tra i paesi europei nelle politiche di accesso alla contraccettione. Ne abbiamo parlato con il direttore del forum parlamentare europeo sui diritti riproduttivi. Il forum ha creato un indice per misurare l'accesso alla contraccettione nei paesi europei. Stati come Francia, Belgio e Irlanda stanno fornendo preservativi gratuiti. In altri, l'influenza della religione non è da sottovalutare, afferma Neil Dattat. L'educazione sessuale resta la via da percorrere per allontanare i rischi per la salute. L'educazione sessuale comprensente insegna a persone con la contraceptione ma anche con il rispetto e il consente in relazioni, anche con le relazioni sessuali. Questo ha un effetto molto positivo che ha avuto un effetto di attenzione, per esempio, per esempio, per evitare un'intenzione pregnanza e per proteggere la loro salute, per evitare l'influenza per evitare l'influenza di evitare l'influenza dei sessuali infatti.